Ma se invece questa fosse la svolta? Ancora! E voi chi siete? Amichis! Marco Giallini, miglior attore e non protagonista 2012 Adesso potrete darmi tutte le brutte notizie che potete Non è successo niente Giorno! Ma fatele sotto, dai! Dai! In questo paese il capitalismo è amorale, ci si formalizza per una condanna Ma dov'è la carità cristiana? Tanti! Tiè, vedi? Mi hai preso il corpo! Ma ne giuro, mi hai preso il corpo! No, ce l'avevo in camerino, portatelo! No, vabbè! Ti ho detto di nascondere, allora nel mio camerino ci sei tu! Ma perché doveva entrare dopo? Gli ho detto nascondetelo! No, Dio, mesomia! Così ti ho preso un colpo, ti sei visto così, te lo regalo, dai, lo porto a casa! Le ho regali ai tuoi figli? Sì, così io ci vanno il fuoco! Ti sopportano anche così, mettiamolo di qua, altrimenti non si vede! Allora, Marco, stai bene? No, non è vero, non è vero! Sì, guarda come sei legato! Ero qui, non avevo perso qualche chilo! Sì, adesso ho perso qualche chilo, appunto per il film... No, sei dimagrita! Prima, sì, ho fatto il film di Eugenio Cappuccio, dove facevo insomma uno un po' meno in forma... Mi fai ridere! Ma tu sei sempre così anche nella tua vita privata? Purtroppo sì, purtroppo sì, faccio finta di essere sempre allegro! Beata chi ti ha! Chi mi ha? Ah, beata chi mi ha! Beata chi ti ha, beata la tua compagna di vita! Sì, 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 io lo direi a lei, ma insomma... No, dillo a lei da parte di Zia! Ma magari ci starà vedendo! Eh, appunto, allora te lo dico, guarda sei fortunata perché trovare un uomo che ti farò sorridere non è facilissimo!